Bene, in questo video cercherò di spiegarvi per quale motivo gli americani sono ossessionati da questi, i soldi, vediamo per quale motivo. Molti degli europei che vivono negli Stati Uniti e vengono qua a vivere, si rendono conto dopo un po' di tempo che qui si parla con estrema facilità di soldi, di guadagno, del professione e di quanti soldi una persona fa, come se fosse una cosa normale raccontare quanto si guadagna. Cosa che invece normalmente non si fa in Italia e in Europa per cui quando si parla di soldi e di temi legati alle finanze si cerca sempre di avere un po' di intimità o di silenzio su questo tema. Infatti in Italia c'è diciamo questo stigma un po' sul denaro in cui non si deve parlare, se hai i soldi non devi far vedere che ne hai, sono un po' di reminiscenze storiche anche dovute alla nostra situazione politica ed economica e sociale anche connessa agli ultimi 50-60 anni di storia. Gli Stati Uniti essendo un paese capitalista in cui si parla apertamente di soldi, di investimenti, di finanze e di tutto quello connesso al denaro ha da sempre più libertà finanziaria, non per il senso vero e proprio della parola ma per quanto riguarda proprio il tema soldi. Ma c'è un altro motivo di fondo per cui gli americani ne sono ossessionati, è perché non ne hanno fondamentalmente. Uno dirà ma come gli americani sono uno dei paesi più ricchi al mondo, sono uno dei paesi con l'accesso al credito più facile al mondo, ma gli americani sono la società più intrappolata alla cosiddetta rat race, quella da cui cercano disperatamente di scappare più di qualsiasi altro stato o nazione al mondo. E quando sei ossessionato dalla carriera, da riuscire a liberarti dai debiti, per riuscire a cercare della realità migliore sei costantemente ossessionato dai soldi ancora di più. Non a caso si dice che le persone più ossessionate dai soldi che ne parlano in continuazione ne hanno paura tra virgolette, cioè hanno paura di rimanerne senza o addirittura non ne hanno, per quello ne parlano costantemente. Ecco con questo non voglio dire che tutti quelli che parlano di soldi in America e se parlano di denaro, di lavoro, di quanto guadagnano siano necessariamente senza soldi, ma è proprio perché è un tema delicato e sensibile con cui hanno a che fare ogni singolo giorno dalla propria nascita. Sapete che in media l'americano medio ha come debito delle carte di credito circa 6-8 mila dollari più o meno, ma considerate che molti di loro hanno già il debito universitario ancora prima di iniziare a lavorare, quindi di guadagnare. A questo si somma un debito medio dell'auto perché la maggior parte delle persone le prendono in lease o appunto con un prestito. E poi si aggiunge a quello della casa che oltre al caro affitti si somma anche al costo degli immobili che è molto alto negli Stati Uniti, quindi provate a immaginare quanti mutui e quanti pagamenti ci sono ogni mese. Quindi anche se un americano guadagna mediamente di più di un italiano o di un europeo e porta a casa ad esempio una media di 4 mila dollari al mese, a questo oltre ovviamente alle tasse che devono essere dedotte bisogna pagare tutti questi debiti accumulati, oltre all'assicurazione medica e sanitaria che come sapete negli Stati Uniti è privata e quindi ti prende un'altra media dagli 200 ai 1000 dollari al mese. Quindi provate a immaginare ogni mese tutte queste spese, tutti questi soldi che vanno, che entrano, che escono e molti americani hanno anche più di un lavoro, il cosiddetto side hustle che anche in Italia ha iniziato a prendere piede perché anche in Italia comunque inizia a esserci questa preoccupazione collegata ai soldi e ai guadagni perché tutti ormai anche per colpa dell'inflazione si sono resi conto che alla fine con uno stipendio non si riesce più a vivere come una volta, il costo della vita è molto più alto, ma qui negli Stati Uniti è ancora più alto, perché oltre a un elevato costo della vita, ripeto, si possono aggiungere tutti i debiti e la quantità di spese che un americano ha in media, molto di più rispetto a quelle di un italiano o di un europeo. Quindi quando ci si sveglia la mattina l'americano la prima cosa che pensa molto probabilmente sono i soldi, quindi di conseguenza quando vanno in Europa o quando hanno parenti poi che ritrovano in Italia o in Europa tornano e iniziano a parlare quasi sempre di soldi, proprio per questo motivo, perché essendo una società così capitalista legata ai soldi, alla spesa, al consumo e al guadagno, praticamente ruota tutto attorno a quello. Se vuoi o non vuoi, alla fine negli Stati Uniti quello che comanda e quello che governa l'attività di ogni singolo cittadino sono questi, quelli che vi ho fatto vedere prima, dollari. Ora, detto questo, è necessariamente una cosa negativa? No, non sto dicendo né che è una cosa positiva né che è una cosa negativa, anche se in realtà ci sono ovviamente dei lati negativi connessi a tutto questo. La ricerca ossessionata del successo, dei soldi, del guadagno, della dimostrazione che ce l'hai fatta, del fatto che la tua erba è sempre più verde di quella del vicino, tra l'altro su questo c'è anche qualcosa di divertente da dire. Spinge gli americani a costante competizione economica, dai primi anni di nascita fino alla tomba. Il lato positivo qual è? Il lato positivo è che è una società estremamente motivante da una parte, perché spinge costantemente a cercare soluzioni, a cercare di vivere una vita migliore, e cercare di spingersi sempre oltre per migliorare la propria condizione e uscire dalla propria zona di comfort. Questo ovviamente è una cosa positiva, ripeto, ma bisogna stare molto attenti a stabilire questo equilibrio in una vita americana, perché alla fine è come una bilancia, se ci facciamo prendere troppo dai soldi, dall'ossessione, dai risultati, la bilancia va da un'altra parte, quindi di conseguenza tutto quello dall'altra parte se ne va a farsi benedire. Molti europei non capiranno mai la mentalità americana, e molti americani non capiranno mai completamente quella europea. Fatto sta che molti americani stanno cercando sempre di più di cercare appunto di vivere uno stile di vita molto più vicino all'Europa che tempo fa. Questo per quale motivo? I social sicuramente, senza dubbio, hanno aperto una finestra sul mondo che una volta non era possibile fare, non era possibile vedere. Una volta c'erano solo i media tradizionali, c'erano solo la televisione, c'erano solo i film, e le uniche produzioni internazionali erano sempre state quelle di Hollywood, quelle della televisione americana. Per quello c'è sempre stata questa tendenza univoca dall'Occidente o dall'Oriente venire sempre più a Occidente negli Stati Uniti, mentre invece per gli americani loro sono sempre stati il centro del mondo e dell'universo, senza mai considerare veramente altri paesi, motivo per cui gli americani in geografia internazionale sanno ben poco, motivo per cui gli americani sanno poche lingue, anzi nessun'altra lingua al di fuori dell'americano, dell'inglese. Mentre invece oggi con i social si è aperto un mondo più democratico in cui la gente guarda anche cosa succede in Europa, che stile di vita si ha, quindi si iniziano a domandare, a chiedere, ma tutti questi debiti e questa vita da criceto che correndo sulla ruota cerchiamo ogni giorno di migliorare, ne vale veramente la pena? C'è qualcosa che possiamo fare per cercare di vivere in modo migliore, più sereno, senza morire? Scusate. Morire di stress o di altri problemi legati al nostro sistema sociale e sanitario che poi ci spinge sempre a indebitarci di più. Quindi molti iniziano a considerare di trasferirsi in Europa, andare in altri paesi, cercare di avere una vita più rilassata, tanti non ce la fanno, cioè vivono lì un anno ma non riescono a vivere in uno stile di vita più rilassato, più complicato e molto diverso rispetto a quello americano e la stessa cosa succede per gli europei che si trasferiscono qui. Molti non ce la fanno a resistere a vivere in uno stile di vita attorno alla produzione, all'economia del guadagno e alle relazioni sempre meno forti perché concentrati tutti alla propria attività lavorativa ogni singolo giorno. Bene, parlo di questo, più tanti altri argomenti connessi alla vita negli Stati Uniti e tra l'altro anche come riuscire a lavorare da qualsiasi parte del mondo e liberarsi. Se vi interessano questi temi potete andare sul mio profilo e cliccare e altrimenti potete seguirmi qui per altri video come questi, lascerò anche una playlist su questi temi e questi argomenti. A presto!